Dal coordinatore regionale Vigili del Fuoco Sicilia, Carmelo Barbagallo, riceviamo la seguente richiesta che nell'interesse dell'informazione della comunità leggiamo interamente. Al signor sindaco di Caltagirone, dottor Fabio Roccuzzo. Oggetto, richiesta, invio sollecito di riclassificazione sede di Caltagirone. La scrivente chiede alla signoria vostra, viste le peculiarità del territorio calatino e delle zone di pertinenza, di inviare al Dipartimento dei Vigili del Fuoco una nota di sollecito per far sì che il distaccamento in oggetto, uno tra i più importanti con i rischi correlati da evidenti climatici e naturali, di sollecitare la possibilità di riclassificare la sede ad una categoria superiore, SD5. Altresì, viste le non perfette condizioni della viabilità, carenza semaforica efficiente e segnalazioni e uscita a mezzi di soccorso, di intervenire per risolvere tale problematica. Altresì, di sentire i lavoratori del luogo sulle difficoltà derivate dalle rotatorie che ostacolano i mezzi di soccorso, perché non idonee, inoltre per poter dare sicurezza all'uscita dei mezzi di installare dei dossi lungo la via della predetta sede attuale. Infine, la possibilità di intitolazione di luoghi ai colleghi caduti in servizio in questi anni. Le presenti richieste dovevano essere discusse, ma come concordato con la sua segreteria, che per motivi di suoi impegni improcastinabili non abbiamo potuto discutere in presenza, sicuri di un vostro riscontro coldialmente. Speriamo che la presente trovi attenzione nell'interesse della comunità.